Quando nessuno crede in te, quando ti trovi solo durante il cammino, quando solo i tuoi sogni danno spazio al destino, ricorda che i sacrifici, la fatica e le porte in faccia sono opportunità da stringere tra le braccia. Vivi, lotta e ribellati ai no. Nessuna imposizione ti potrà impedire di tornare là, nella strada, col pallone. Credi e impara. Vinci ogni tipo di pigrizia, l'alleanza più preziosa è con la suprema giustizia. Ci sarà un momento nel percorso dove una luce ti illuminerà la via e quando la tua voce comincia a far rumore, allora sentirai che inizia la rivoluzione. Grazie. Grazie. Grazie.